Buongiorno, sono Gianni Duca, il direttore generale di Cassa Galeno. Con questo video voglio presentarti alcuni aspetti peculiari della cassa. Bene, questa è una domanda un po' tecnica, ma proveremo comunque a essere chiari. Ogni anno, sulla base di un accordo tra la compagnia e la cassa, Galeno procede ad effettuare un bilancio, d'intesa con gli assicuratori, tra i rimborsi effettuati ai soci e le quote di contributo versate alle compagnie stesse. Questa rendicontazione riguarda esclusivamente le prestazioni per la copertura morte ogni causa, morte e invalidità permanente da infortunio, invalidità permanente da malattia e la sanitaria. Qualora il saldo di queste due partite finanziarie generasse un profitto per le compagnie di assicurazione, le stesse, in forza di quell'accordo, mettono a disposizione dei soci della cassa, secondo le modalità previste nel regolamento della cassa stessa, un importo che poi verrà accantonato annualmente nella posizione previdenziale individuale del socio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!